Noi in Italia abbiamo talmente tanti prodotti in pasticceria rispetto a tutti gli altri paesi del mondo che non è più pensabile di fare tutti i giorni i bignè. Devi studiare un modo da farli in modo razionale, in modo intelligente, perché comunque la corrente costa, il gas costa, le personale costa, non è più ormai il costo della materia prima, ormai quello che costa di meno è la materia prima e tutto il resto che costa, quindi devi andare in funzione a quello che è il mercato.